A cortina incontra con l'onorevole Pecorella, già vestito nei panni di Galileo Galilei, che interpreterà questa sera, noi parliamo di un altro argomento, quello che si è affrontato questo pomeriggio, i magistrati, la magistratura, è davvero una casta come la si dipinge? Direi che è una corporazione più che una casta, è un gruppo molto unito che si autoprotegge, sia autolegittima, sia autogiustifica e da questo punto di vista solo delle riforme radicali, del Consiglio Superiore della Magistratura, della separazione delle carriere, potranno fare della nostra magistratura una magistratura più efficiente e più moderna. Se le dico toghe rosse, cosa mi risponde? Guardi, c'è un bel libro appena uscito, che è intitolato Toghe Rosse, ma che fa riferimento ai magistrati che sono stati ammazzati a sangue dei magistrati. Se mi dice toghe rosse, pensando ai magistrati di sinistra, o comunque ai magistrati che fanno politica, devo dire che i tempi sono un po' cambiati rispetto alle toghe rosse, rispetto al resistere, resistere, resistere di Borrelli. Però ancora oggi c'è un fortissimo legame tra una parte della sinistra, almeno una parte, è una parte della magistratura, tant'è vero che alcune riforme, ripeto per esempio quella della separazione delle carriere, non si riesce a farla proprio perché i magistrati non la vogliono e la sinistra li appoggia. Oggi si è parlato di problemi della giustizia che non sono dovuti solo ai magistrati, ma delle lentezze di sistema che non si riesce in nessun modo a superare. Secondo lei come si possono affrontare? Credo che le soluzioni devono essere su diversi piani, anzitutto una maggiore specializzazione dei magistrati che quindi debbono restare in certe funzioni dove sono più preparati. Torno alla nota dolente della separazione delle carriere, oggi chi ha fatto il pubblico ministero per molti anni va a fare il presidente e viceversa senza averne la strumentazione. Un altro aspetto riguarda i tempi del lavoro dei magistrati, certamente ci sono magistrati che lavorano molto ma ci sono anche magistrati che lavorano troppo poco e direi poi ancora, e questa è una responsabilità della politica, dare ai magistrati più strutture, più mezzi per produrre di più. Gli addetti lavori si lamentano della non informatizzazione di tutto il sistema, un'opera che sarebbe monumentale ormai da fare, però ancora si gira con i faldoni. In diritto civile si sono fatti dei notevoli passi avanti, per esempio a Milano è tutto informatizzato. Per il processo penale l'informatizzazione forse è meno importante, quello che si deve riuscire a fare è concentrare i processi, perché oggi si fa un'udienza, poi l'udienza successiva la si fa a distanza magari di due o tre mesi e quindi da un lato l'oralità che è caratteristica del processo accusatorio non c'è e dall'altro i magistrati e gli avvocati fanno doppio lavoro, perché devono tornare a rileggere le carte e quindi direi che questo è importante. Nel processo moderno le udienze devono essere una dopo l'altra e il processo si deve chiudere in tempi molto brevi. Per concludere le posso chiedere una battuta sulla carerica che l'ha contrapposta a Roberto Saviano? Guardi, la considero una vicenda assolutamente chiusa. Posso soltanto aggiungere che io mi sono limitato a ricordare ad alcune persone quello che era il movente che in ben due sentenze di due sezioni di corte d'assise veniva indicato. Poi al di là di questo non ho nulla da aggiungere se non che probabilmente Saviano non ha letto le sentenze, quindi lui parla nella logica rispettabilissima e condivisibile della vittima della Camorra, perché comunque fu vittima della Camorra, ma da persona che non ha evidentemente conosciuto nelle carte del processo, nelle sentenze come le ho conosciute io. Però direi che oramai la questione è francamente superata. Grazie a tutti.